Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è mercoledì 20 ottobre 2010. Vedete bene il titolo del video. Ebrei, cristiani, musulmani. Questo video si basa di una sollecitazione dell'amico Dario Gemini il quale mi fa notare che già nella Bibbia è profetizzato che ci sarebbe stata un'altra grande religione accanto a quella ebraica. Vedremo di che si tratta questa grande religione e la religione musulmana. Stranamente nel libro Genesi noi troviamo scritto che relativamente ai due figli di Abramo uno dei figli menzionati è Isacco l'altro è Ismaele Isacco è il figlio della moglie diciamo così legittima di Abramo Isacco Ismaele è figlio di un'altra moglie una seconda moglie o comunque di una concubina di Abramo l'altro figlio è Ismaele nella Bibbia è scritto che l'eredità di Abramo passerà tutta al figlio legittimo di Abramo cioè a Isacco quindi eredità eredità anche sul piano ideologico però Dio dice però anche a tuo figlio diciamo così il legittimo Ismaele daremo daremo quanto gli spetta le parole precise sono le seguenti ma io farò diventare una grande nazione anche il figlio della schiava perché è tua prole è la Bibbia addirittura Genesi nel libro Genesi il libro Genesi il libro Genesi è il primo libro della Bibbia e vi ho già detto tante volte che nel libro Genesi noi troviamo già poste le basi le basi più profonde più ben radicate di quello che è il patriarcato e vediamo un po' come vanno com'è la successione degli eventi queste tre grandi religioni la religione di Yahweh religione ebraica di Yahweh la religione cristiana del Dio Gesù Cristo la religione musulmana del Dio Allah in pratica hanno nelle loro mani il mondo e non è che per il fatto che siano delle religioni che non vadano tanto d'accordo con la scienza perché voi vedete bene che in paesi ebraici in paesi cristiani in paesi musulmani c'è tanto di bomba atomica gli ebrei nello stato di Israele di certo hanno la bomba atomica anche se ciò non è stato mai ufficializzato paesi cristiani tanti paesi cristiani hanno la bomba atomica Stati Uniti Russia Inghilterra Francia paesi cristiani che hanno la bomba atomica paesi musulmani con la bomba atomica il Pakistan ha la bomba atomica l'Iran la vuole preparare Pakistan la bomba atomica l'Iran la vuole preparare poi ci sono anche paesi che non sono né di religione ebraica né di religione cristiana né di religione musulmana che pure hanno la bomba atomica come l'India sul continente asiatico che benché di religione hinduistica ha anche la sua bella bomba atomica però fondamentalmente il mondo non è in mano all'induismo ma il mondo è in mano a queste tre grandi religioni ebraismo cristianesimo e islamismo che guarda caso fanno fanno tutte capo alla città di Gerusalemme guarda caso tutte quante queste religioni traggono diciamo la loro linfa dall'ebraismo dal libro Genesi quante volte ho cercato di far capire che tutto il mondo patriarcale ha la sua origine nel mondo ebraico ve l'ho detto tante volte nel libro nel video per esempio intitolato l'ideologia ebraica nell'altro video intitolato gli illuminati queste tre grandi religioni hanno in comune non solo il libro Genesi ma gli stessi dieci comandamenti i comandamenti di Mosè appartengono non soltanto all'ebraismo ma appartengono anche al cristianesimo e all'islamismo nei dieci comandamenti che si tratti della religione ebraica che si tratti della religione cristiana che si tratti della religione islamica c'è scritto per esempio non desiderare la donna d'altri non desiderare la roba d'altri non desiderare la donna d'altri ora che cosa vuol dire non desiderare la roba d'altri vuol dire che che Dio dando quel comandamento oh guardate non facciamone una questione di lana caprina non mi viene da dire che i dieci comandamenti non li ha dati Dio ma li hanno costruiti gli uomini non cambia niente cari amici e quello che resta è che i dieci comandamenti ci sono ora per chi crede in Dio i dieci comandamenti sono stati dati da Dio da Dio in persona da Yahweh sul monte Sinai a Mosè e per chi non ci crede i dieci comandamenti sono stati creati dal popolo ebraico va bene cari amici però questi dieci comandamenti ci sono sia nell'ebraismo che nel cristianesimo che nel mondo musulmano nel mondo islamico non desiderare la roba d'altri e che vuol dire non desiderare la roba d'altri vuol dire che c'è la nascita della proprietà privata che con quel comandamento Dio dice all'umanità agli uomini ciascuno di voi si tenga la propria roba ma non vada a desiderare la roba degli altri non vada a portare via la roba degli altri è nata la proprietà privata la distinzione tra ciò che è mio e ciò che è tuo ma tanti giovani quanti mi hanno scritto ma guarda che si parla già di proprietà privata nei famosi codici di Hammurabi che sono di 3-400 anni prima dei dieci comandamenti i dieci comandamenti diciamo così nascono all'incirca nel 1330 1340 1330 avanti Cristo il codici di Hammurabi è all'incirca del 1700 avanti Cristo ma io che continuo a ripetere ma non si discute che la proprietà privata sia nata anche prima dei dieci comandamenti e allora mica c'avevamo le televisioni non avevamo internet non possiamo documentare con certezza ciò che è avvenuto prima dei dieci comandamenti sì sì proprietà privata magari c'era anche prima dei dieci comandamenti ma il discorso è un altro che con i dieci comandamenti noi abbiamo una legittimazione divina una legittimazione divina della proprietà privata capito? e questa legittimazione divina della proprietà privata non lo troviamo nel celebre codice di Hammurabi quella che conta quello che conta è la legittimazione divina un dio stesso sacralizza la proprietà privata dando il comandamento non desiderare la roba d'altri e poi non desiderare la donna d'altri tra l'altro ma nel libro Genesi poi c'è proprio tutto il patriarcato il primo ordine che dà Dio il Dio Yahweh è siate fecondi e moltiplicatevi e a questo ordine abbiamo ubbidito tutti da quando l'ordine venne dato sino ad oggi vedete come si è moltiplicato il pianeta siamo arrivati a 7 miliardi fra non molto qualche decennio siccome si parla sempre di crescita logaritmica esponenziale o geometrica saremo magari 8 miliardi presto vedete siate fecondi e moltiplicatevi l'umanità ha ubbidito alla lettera questo ordine poi l'altro ordine ordine qualcuno mi ha fatto notare che più che un ordine è una punizione vabbè comunque è una punizione sì ma è una punizione che viene data come ordine divino guadagnerai il pane col sudor della tua fronte ed eccoci qua ancora oggi a guadagnarci il pane col sudor della nostra fronte e poi ancora oggi a guadagnarci il pane con il sudor della nostra fronte a punto tale che molti hanno creato dei movimenti e faccio riferimento con rispetto al movimento Zeitgeist perché non molto tempo fa sulla base di una sollicitazione fece il video intitolato Movimento Zeitgeist e ricordo che lì si ritiene quelli che appartengono a questo movimento ritengono che l'umanità sarà salvata dagli automi dai robot dalle macchine cioè non lavoreremo più noi esseri umani lavoreranno le macchine gli automi qualcuno mi dice che gli automi sono nascosti non so dove ma non lo so io ho più volte obiettato che c'è il famoso proverbio popolare popolare quindi il proverbio democratico che dice chi di speranze vive è disperato muore a tutti quei giovani che mi dicono che non c'è più di non dobbiamo più preoccuparci della faccenda guadagnerai il pane col sudor della tua fronte presto tanti mi dicono non dobbiamo più preoccuparci di questo ordine odioso di questa punizione odiosa guadagnerai il pane col sudor della tua fronte perché presto ci saranno gli automi che che lavoreranno per noi e io allora Giulia rispondo va bene ma gli automi chi è che li costruisce ci dovranno escire delle industrie che costruiscono gli automi a meno che gli automi non scendano giù dal cielo e quando ci saranno di cose quando però ci saranno su questo pianeta gli automi che lavoreranno per noi quando fra sei mesi fra dodici mesi fra un anno e mezzo fra cinque anni e allora lì i problemi diventano un po' particolari perché nessuno mi sa dire con certezza quando arriveranno gli automi a lavorare per noi poi c'è tutto il problema di stabilire quando gli automi si guastano e ci guastiamo noi gli esseri umani che abbiamo bisogno degli ospedali e ci guasteranno pure gli automi no e ci guasteranno allora le officine per riparare gli automi o li ripariamo noi gli esseri umani gli automi o li ripareranno altri automi riparatori automi meccanici che riparano gli automi lavoratori e poi gli automi meccanici ma insomma vabbè 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 c'è quell'ordine di vino guadagnerai il pane col sudore della tua fronte e noi facciamo tutte le contorsioni di questo mondo per sfuggire a questa maledizione no però da quando fu lanciata quella maledizione sino ad oggi ha funzionato perché vediamo il mondo che tribola in continuazione per sopravvivere per sopravvivere c'è bisogno di lavorare anche col sudore della nostra fronte qualcuno ci prova a non sudare a non sudare cioè a prendere le scorciatoie però per coloro che prendono le scorciatoie ci sono le galere si dice le patrie galere adesso io non voglio offendere nessuno ma vedete che anche per esempio il nostro premier Silvio Berlusconi che sia in stato di illegalità egli o in stato di illegalità io questo non lo posso sapere però vedete che è sempre sotto processo sempre sotto processo non è una cosa bella essere sotto processo che uno sia il premier di un paese o che sia un semplice cittadino non è una cosa bella essere sotto processo comunque questo per dire che o tu vai per la strada normale e quindi ti guadagni il pane con sudor della tua fronte oppure cerchi le scorciatoie di solito chi cerca le scorciatoie per non sudare va a stare al fresco in galera vedete che funziona tutte e tre queste religioni hanno questo questo grande ordine tutte e tre ce l'hanno ebrei cristiani musulmani hanno tutti e tre questo ordine guadaglierai il pane con sudor della tua fronte perché il libro Genesi fa parte di tutte e tre le religioni come di tutte e tre le religioni fanno parte i dieci comandamenti tra l'altro è singolare evidenziare come relativamente all'aldilà queste tre religioni che pure hanno un ceppo comune fortemente comune e riguardo all'aldilà sono molto diverse perché per gli ebrei l'aldilà non c'è è una da questo punto di vista la religione ebraica di Yahweh è una delle religioni più belle del mondo perché ti dice che il mondo sta qua sta qua il mondo su questa terra quando tu sei morto sei morto e chi si è visto si è visto non esiste un'aldilà per il dio Yahweh non esiste un'aldilà e il dio Yahweh è un dio profondamente umano anche se patriarcale perché ti dice tu vivi su questa terra e il paradiso ce l'avrai su questa terra e l'inferno ce l'avrai su questa terra se tu se tu mio credente e ubbidirai i miei comandamenti avrai il paradiso su questa terra se tu invece non ubbidisci ai miei comandamenti su questa terra avrai l'inferno nel senso io ti darò il paradiso su questa terra ti farò diventare ricco ti darò tanti figli avrai una progenie molto prolungata e via di seguito se tu invece non ubbidisci ai miei comandamenti io ti farò diventare un miserabile un pezzente e che cosa vuol dire è un dio da questo punto di vista il dio degli ebrei è davvero un dio umano molto patriarcale ma davvero umano e invece stranamente salta fuori che il cristianesimo che pur scaturisce dall'ebraismo libro Genesi ce l'ha anche il cristianesimo e i dieci comandamenti ce l'hanno anche il cristianesimo e questo dio dei cristiani che pure trae tutta la sua linfa fondamentale dall'ebraismo stranamente chissà perché invece il dio dei cristiani c'ha il paradiso che è una cosa meravigliosa però c'è pure l'inferno io tante volte vi ho detto che a me va bene l'aldilà dei cristiani ma mi va bene soltanto il paradiso l'inferno non mi va bene perché è un inferno per l'eternità quindi non si capisce come il dio Cristo Cristo la religione cristiana si chiama cristiana perché diciamo così si basa sul messaggio di Gesù Cristo non si capisce per quale motivo la religione cristiana che si dice sempre che la religione cristiana si basa sull'amore che il nuovo testamento i quattro evangeli le episte si basano sull'amore non si capisce come possa poi saltar fuori questo dio che c'ha l'inferno c'ha il paradiso ma c'ha l'inferno o è l'inferno per l'eternità quindi vedete per esempio il cristianesimo come si differenzia dall'ebraismo anche se le radici sono le stesse queste due divinità sono profondamente diverse Yahweh il dio Yahweh e il dio Cristo sono molto diversi perché si dice tanto che il dio Yahweh è un dio cattivo crudele severo eppure non ha fatto né inferno né paradiso e invece il dio Cristo che si dice che il dio dell'amore sta preparato per l'aldilà il paradiso non va bene ma l'inferno per l'eternità non va bene poi prendiamo il dio Allah e il dio Allah si differenzia ancora perché per il dio Allah c'è l'aldilà per il dio Allah c'è il paradiso e c'è l'inferno solo che l'inferno è un inferno a tempo determinato ogni tanto Allah compie atti di misericordia tira fuori qualcuno dall'inferno lo porta con sé in paradiso si distinguono poi anche altre religioni per esempio i testimoni di Geova non ce l'hanno l'inferno hanno solo il paradiso il paradiso dei testimoni di Geova è graduato in vari livelli di felicità poi però l'argomento che mi pone che mi pone con specificità l'amico Dario Gemini è la singolarità per la quale nella Bibbia nella stessa Bibbia c'è scritto che nella stessa Bibbia scritta dagli ebrei c'è scritto che ci sarà un grande posto nel futuro anche per i discendenti di Ismaele e i discendenti di Ismaele sono proprio i musulmani gli islamici in grosso modo in un certo senso la Bibbia fa una profezia relativa ad una religione che poi l'è antagonista e questo è singolare e da questo punto di vista si può quasi quasi concludere che c'è più affinità tra ebraismo e islamismo che non tra ebraismo e cristianesimo da questo punto di vista si può concludere che c'è più affinità più analogia tra l'ebraismo ed islamismo che tra ebraismo e cristianesimo e la diversità tra ebraismo e cristianesimo è presso che è insanabile presso che è insanabile c'è la questione di Gesù c'è la questione di Gesù della crocifissione di Gesù per gli ebrei Gesù era un ebreo e basta non era di certo il figlio di Dio è un popolo che ha come Dio un Dio lo chiamano loro gli ebrei chiamano loro Dio il Dio degli eserciti non poteva mica questo popolo ebraico lì di Gerusalemme ai tempi dell'imperatore Ottaviano Augusto non poteva mica riconoscere il proprio Dio Messia in questo Gesù che se ne andava in giro quasi come quasi quasi come un barbone era poco dignitoso un Dio degli eserciti non va in giro in questo modo e invece i cristiani in un certo senso i cristiani sono una setta una setta sono degli eretici all'interno del mondo cristiano di allora infatti i cristiani all'interno del mondo ebraico i cristiani al tempo del mondo ebraico nei tempi di Gesù erano quattro gatti gli ebrei gli ebrei adoravano Yahweh per loro Gesù era nulla anzi era un fastidio invece per i cristiani i discepoli di Gesù erano quattro gatti e invece per i discepoli Gesù era davvero il messia era un Dio sceso in terra per redimere l'umanità e poi c'è l'evento della crocifissione perché la separazione tra ebraismo e cristianesimo si basa sul fatto della crocifissione di Gesù e la crocifissione di Gesù più che dai romani effettivamente fu voluta dagli ebrei ci fu uno scambio tra Gesù e Barabba e i rabbini dissero al popolo volete Gesù volete che sia che venga liberato Gesù o che venga liberato Barabba e il popolo si dice sobbillato dagli stessi rabbini disse no vogliamo che sia liberato Barabba e che sia Gesù ad andare ad essere crocifisso poi qua guardate ci sono tante versioni ma restiamo sulla versione ufficiale quella più più usuale più nota per i cristiani gli ebrei sono colpevoli della morte sono colpevoli di non avere di non avere riconosciuto in Gesù il Messia e poi di averlo messo in croce o poi ci sono stati tanti 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 saggi tanti sulla figura di Giuda Iscariota quello che ha tradito Gesù tanti giustamente hanno evidenziato che se Giuda Iscariota non lo tradiva Gesù Gesù non sarebbe stato messo in croce e quindi non si sarebbe realizzata la ritenzione del genere umano dal peccato originale e comunque il cristianesimo piano piano si potenzia i cristiani si allontanano da Gerusalemme si spostano in altre parti dell'impero romano si spostano un po' in Medio Oriente nell'Anatolia quella che oggi è la Turchia si spostano poi in Grecia poi arrivano a Roma e piano piano i cristiani diventano una moltitudine c'è da notare che di queste tre religioni vi ho detto prima che se dobbiamo trovare delle analogie ci sono più analogie tra gli ebrei e gli islamici musulmani che non tra gli ebrei e i cristiani e poi c'è un'altra diversità su come si sono affermate queste religioni di nuovo vediamo che c'è una omogeneità tra il modo di affermarsi dell'ebraismo e dell'islamismo e il modo di affermarsi del cristianesimo e non è un caso che ebrei e musulmani mantengono la purezza dell'immagine di Dio non hanno i santini non hanno le madonnine va bene il nome di Dio non si può nemmeno nominare quindi c'è una purezza nel mondo ebraico nel mondo musulmano che non c'è nel mondo cristiano il mondo cristiano è caratterizzato da un incredibile paganesimo e perché è avvenuto ciò ma perché l'ebraismo che tra l'altro non è mai stata una religione di espansione non esistono i missionari nella religione ebraica l'ebraismo si porta via tutto dall'antico Egitto quando arrivano alla terra di Cana con la spada occupa con la spada occupa il territorio e lì crea il proprio gli ebrei creano il proprio stato e diciamo così affinano la loro religione la religione di Yahweh con le spade con la spada sempre in guerra sempre in guerra fino a quando sottomettono tutti gli indigeni gli abitanti nativi della terra di Cana lì vanno col sangue con le guerre impongono la loro presenza in terra di Cana e lì cresce lo stato di Israele stessa cosa per i musulmani stessa cosa per l'Islam e l'Islam si impone con le armi proprio come la religione ebraica con l'unica differenza che l'Islamismo è una religione che tende a espandersi mentre l'ebraismo è una religione che si accontenta di stare tra gli ebrei i musulmani gli islamici come gli ebrei espandono la religione in tutto il mondo con la spada in 448 gli islamici dopo l'Egira o Egira nel 622 nel 622 dopo Cristo noi abbiamo la nascita del primo nucleo islamico e dopo il 622 tra il 650 e il 700 dopo Cristo e l'Islam con le armi con le armi esattamente come gli ebrei l'Islam con le armi arriva e arriva in Afghanistan in Pakistan e poi andrà ancora più giù andrà giù in Indonesia a Oriente e l'Occidente occupa tutta l'Egitto che era la culla del cristianesimo l'Egitto l'Egitto tutta l'Africa settentrionale la Spagna arriva persino a valicare i piederei pensate che già nel 732 mi pare abbiamo la battaglia di Poitiers in Francia e dal 622 al 732 sono passati 110 anni va bene? in un secolo arrivano ad occupare dall'Arabia Saudita dalla Mecca dalla Medina la Medina arrivano a Occidenti a occupare tutta l'Africa settentrionale tutta la Spagna e anche a valicare i Pirenei e a Oriente arrivano in una maniera prodigiosa arrivano a occupare l'Iran l'Iraq il Pakistan l'Afghanistan parti del subcontinente asiatico e ancora più in là ha qualcosa di spettacolare l'espansione dell'Islam che avviene ma non militari eh quindi ebraismo e islamismo si impongono con la forza col sangue e invece come si impone il cristianesimo? il cristianesimo si impone in una maniera molto diversa non si è imposto col sangue il cristianesimo ma ha dovuto pagare a caro prezzo il fatto di non essersi imposto col sangue nel senso che ha potuto diciamo così diventare la religione ufficiale dell'impero romano venendo a un compromesso con i romani con l'impero romano in un certo senso l'impero romano ha cooptato ha cooptato il cristianesimo tra le tante religioni che c'erano nell'impero romano tante ce n'erano nell'impero romano a un certo punto la religione cristiana diventa quella guardata con più favore dalla famiglia imperiale ai tempi di Costantino la mamma dell'impero Toro e Costantino era una cristiana è chiaro che la cristiana il figlio l'avrà educato al cristianesimo e anche se non si è mai saputo con certezza se Costantino fosse davvero cristiano o non fosse niente cioè nel senso un nato però è chiaro che se la mamma di Costantino era cristiana e beh il figlio Costantino avrà avuto un occhio di riguardo nei confronti del cristianesimo fatto sta che l'imperatore Costantino vede che è l'impero e nel 313 dopo Cristo emana l'edito di tolleranza cioè dice che il cristianesimo è tollerato non si deve più perseguitare il cristianesimo questo è il 313 dopo Cristo e pensate un po' dal 313 andiamo mi pare dal 380 390 quindi nel giro di 70 80 anni con l'imperatore Teodosio abbiamo l'edito di Tessalonica e con l'edito di Tessalonica un imperatore Teodosio dichiara il cristianesimo religione ufficiale dello stato romano religione ufficiale dello stato l'impero romano diventa l'impero cristiano con l'edito dell'imperatore Teodosio il famoso evento di quella grande astrologa egiziana Ipazia di cui voi avrete sentito parlare nel film Agora e quegli eventi avvengono proprio a cavallo dei tempi dell'imperatore Teodosio quando la religione cristiana diventa la religione ufficiale dell'impero romano per cui i cristiani prendono il potere e i non cristiani i pagani o i seguaci di altri riti sono esclusi dal governo dell'impero vedete la singolarità no? ebrei e islamici che si impongono con la forza degli anni ma restano puri perché non ci sono compromessi nella misura in cui il cristianesimo viene cooptato dagli imperatori e deve scendere a compromessi con l'impero romano e quali sono questi compromessi? è che il cristianesimo deve abbandonare il suo ideale di purezza iniziale e accettare diciamo una certa corporeità della propria religione una religione che non ha più soltanto un dio come è per gli ebrei e per i musulmani e che bacia tanti santi u quanti santi in tutto l'impero ovunque c'era un tempio un tempio un tempietto per un dio lì sorge subito una chiesetta per un santo o per una santa è pieno di santi è pieno di santi la religione la religione cristiana non altrettanto si può dire della religione islamica e della religione ebraica ecco e poi poi diventerà conquistatore il cristianesimo dopo in un primo tempo viene semplicemente cooptato dall'impero quindi si trova al potere il cristianesimo senza senza aver usato la spada come invece dovessero fare gli ebrei gli islamici si trova si trova comodamente seduto nei posti privilegiati imperiali però però deve respirare deve accettare di respirare l'aria dell'impero e l'aria dell'impero era lo che c'era era un impero politeistico c'era un'infinità di dei e il cristianesimo deve accettare di avere una infinità di santi ovunque stati di santi per cui abbiamo ancora oggi e allora c'è gente che va a pregare il santo tal di tali che magari non pensa nemmeno a Dio ma si rivolge direttamente ad un santo allora come oggi è esattamente come si faceva al tempo del politeismo quando l'individuo si rivolgeva direttamente un santo ad un Dio a uno dei qualsiasi infiniti dei di allora allora torniamo adesso però torniamo all'attualità all'attualità allora va evidenziato che sulla base di quanto è scritto nel libro Genesi sembra che ci siano molte più analogie tra ebraismo ed islamismo che non tra ebraismo e cristianesimo e questo vale ancora oggi e questo è difficile a sapersi non si può rispondere a questa domanda e tra l'altro tra l'altro ed è specificato nella lettera di Dario Gemini e c'è la vicenda della dello Stato di Israele dopo la seconda guerra mondiale e gli ebrei fondano in Palestina lo Stato di Israele segue una rapidissima c'è una guerra rapidissima e esorge lo Stato di Israele che viene piano piano riconosciuto da quasi tutti i membri dell'organizzazione delle Nazioni Unite e questo è un vulnus che ancora separa ebrei e islamici però attenzione attenzione nell'islamismo moderato nell'islamismo moderato c'è la consapevolezza della necessità di dover convivere con gli ebrei tanto è vero che gli ebrei moderati sarebbero il gruppo dei sunniti perché poi l'islamismo si è spaccato come il cristianesimo si è spaccato in cattolici protestanti ortotossi eccetera 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 e anche l'islamismo poi si è spaccato in tantissime diciamo così in tanti filoni diversi i principali sono l'islamismo sunnita che fa capo all'Arabia Saudita e l'islamismo sciita che fa capo all'Iran e all'Irak grosso modo fatto sta che l'islam diciamo così è l'islam più vicino al mondo arabo che dete vita all'islam stesso l'islam più vicino al mondo arabo cioè l'islam sunnita guarda caso è molto più tollerante nei confronti dello stato di Israele che non l'islam sciita il quale l'islam sciita è un islam molto lontano dal mondo arabo che partorì maometto e ciò è tanto vero che e mi pare di averne già parlato che da parte degli islamici sunniti quelli dell'Arabia Saudita e dei paesi circostanti è stato siglato un accordo con lo stato di Israele da parte dei paesi arabi sunniti sunniti quelli che sono l'Arabia Saudita e i paesi circostanti cioè i paesi dove in pratica l'islamismo è nato e fu siglato da parte di questi paesi specifico Arabia Saudita Giordania ed Emirati Arabi è stato siglato non tanto tempo fa nella scorsa primavera un trattato più o meno segreto con lo stato di Israele per consentire allo stato di Israele di utilizzare lo spazio aereo di questi paesi Arabia Saudita Giordania Emirati Arabi di utilizzare lo spazio di questi paesi casomai lo stato di Israele avesse bisogno di andare a bombardare l'Iran dove stanno diciamo così lavorando l'energia nucleare o a fini pacifici o a fini bellici per creare la bomba atomica non si sa però a scopo cautelativo questi paesi arabi islamici arabo-islamici del nascente islamismo e cioè i sunniti e diciamo così sono favorevoli o guardano diciamo con un certo senso di fratellanza allo stato di Israele e proprio perché nel libro Genesi c'è questa singolarità che sia gli islamici sunniti che gli stessi ebrei deriverebbero dall'unico patriarca Abramo gli ebrei attraverso uno dei figli di Abramo che è Isacco e gli islamici attraverso l'altro figlio che è Ismaele un figlio di serie B nel senso che è nato da una schiava però al quale figlio islaele lo stesso Dio disse farò grande anche te ecco c'è questo poi il lontano islam l'islam lontano cioè l'islam non dei popoli arabi l'altro islam non guarda con simpatia allo stato di Israele tanto è vero che Ahmadinejad pur essendo un islamico però è un islamico sciita lo vorrebbe eliminare Israele invece un altro islam l'islam sunnita dei paesi del paese che ha dato origine all'islamismo e invece stringe parti di alleanza con l'ebraismo con lo stato di Israele va bene cari amici io cosa volete che vi dica termino evidenziando che parlando appunto delle religioni cioè concludo come ho iniziato cioè in che maniera vi faccio osservare che siccome molti parlano di conflitto tra religione e scienza non è vero sia la religione che la scienza e stranamente sono al servizio delle aspettative dell'essere umano e quali sono le aspettative dell'essere umano magari di non morire perché la morte non piace a nessuno e l'essere umano è tale nella misura che proprio ha la consapevolezza chiara netta e distinta di dove morire le religioni nascono come sollievo ti promettono una vita eterna nell'aldilà addirittura poi magari ti promettono anche l'inferno come fa il nostro cristianesimo però dice ma io non ci andrò all'inferno faccio sempre a tempo fare la comunione prima di morire mi di seguito c'è la soluzione comunque le religioni nascono per dare un sollievo dice no muori dal tuo corpo ma la tua anima vivrà all'interno eccetera eccetera e la scienza segue la scienza è l'ombra della religione anche se sembra strano anche se sembra strano lo so lo so la scienza è l'ombra della religione anche la scienza persegue le stesse finalità dice la chiesa c'è la religione la scienza dice le religioni promettono a te umanità la vita eterna nell'aldilà di cui mai nessuno ha avuto esperienza io scienza ti darò diciamo qualcosa di simile alla vita eterna nell'aldiqua però vedete che la scienza rincorre la religione hanno la stessa finalità redimere l'uomo dalla propria infelicità e che abbiano la stessa finalità poi si vede nelle cose sostanziali che ho già evidenziato all'esordio e cioè che pure questi stati con questo dio monoteista anzi proprio loro hanno la bomba atomica proprio loro è chiaro è chiaro proprio loro perché è in loro che nasce l'astrazione un unico dio un unico dio monoteismo implica un'astrazione del pensiero in un certo senso ho detto anche se sembra assurdo ho già detto che in un certo senso la religione spiana il cammino a quella che noi chiamiamo scienza e vanno un po' a breccetto vanno a breccetto sono esse le grandi di arche dell'umanità le di arche hanno la signoria dell'umanità religioni e scienze vanno a breccetto più di quanto sembri più di quanto sembri cari amici tanto è vero e concludo che la bomba atomica ce l'hanno lo stato di Israele degli ebrei poi ce l'hanno gli stati cristiani i buoni stati cristiani hanno tante bombe atomiche Stati Uniti Russia Inghilterra Francia e anche gli stati islamici hanno tante bombe atomiche Pakistan ha le bombe atomiche e adesso lo vuole costruire forse la bomba atomica anche l'Iran l'Iran di Ahmadinejad come vedete Ahmadinejad prega tanto Allah ma Allah non si sente in stato di conflitto nei confronti della bomba atomica ecco poi a ruota ha seguito anche il mondo hinduistico della Cina e il mondo variamente religioso ma di religiose diverse della Cina perché si sono messi sulla nostra strada capito e Cina ed India nella misura in cui hanno scelto la bomba atomica si sono messi sulla strada dei grandi monoteismi è tanto vero che vedete cosa stanno facendo India e Cina vedete cosa stanno facendo cari amici stanno rivoluzionando tutti i nostri welfare producendo merci a basso costo senza che loro abbiano come si chiama l'ostratuto dei lavoratori il welfare il servizio vedete anche la Cina e anche l'India procurandosi le bombe atomiche si sono messi sulla strada dell'Occidente e adesso però combattono l'Occidente in un certo senso prima l'Occidente conquista culturalmente l'Oriente ora l'Oriente e adesso cerca di dominare sull'Occidente attraverso tutti i sistemi di globalizzazione che vedono i fondi sovrani cinesi e indiani alla conquista del mondo va bene cari amici tutto deriva dai monoteesmi va bene va bene cari amici grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni grazie a tutti grazie a tutti